Ciao a tutti ragazzi e oggi voi metterete pollici in su, sapete perché? Perché faremo una cosa veramente figa, ma ve lo racconto più tardi Intanto vi ricordo 5.000 pollici in su per un video extra, 6.000 pollici in su per due video extra Più pollici in su mettete, più video extra ci saranno, non lo so quanti Oggi è domenica, buona domenica a tutti, sono le 13, buon appetito a tutti Se questo video lo guardate lì sera, buona sera a tutti Se lo guardate di notte, buona notte a tutti Se lo guardate oggi, buona giornata, se lo guardate a Natale, buon Natale a tutti Se lo guardate a Capo... Di cosa abbiamo bisogno oggi? Un sacco di roba Intanto iniziamo a fare una cosa del genere, anzi mi serve della stone, porca logia Eccola qui Ragazzi intanto oggi uno degli extra sarà fantastico perché veramente qualcosa di veramente figo Io che sto facendo? Ah sì, devo craftarmi un piccone Perché? Perché l'ho finito, l'ho terminato in caverna Poi allora, one bleach, blick, splick One di streak, one di flick Avete rotto i coglioni ragazzi nell'ultimo episodio Perché ho fatto quei 2 minuti e 50 in caverna Tagliati, ultra tagliati Ho capito ragazzi, per tutta la settimana vi ho caricato ben 4 E dico 4 video al giorno, ok? Ieri era sabato, ho voluto riposarmi Dovete cagare i coglioni? Certo che non veniva bene una eh Sempre pronte a criticare Ma fatemi una cazzo di risata Pensare un po' a voi stessi invece di pensare agli altri Fa bene Aiuta lo stomaco Te capii? Un altro repeat che potrebbe sempre servire Ok, siamo a cavallo Dopo aver dormito nella stalla Salutiamo Pirlo Pirli Guardate che faccino dolce che ci hanno Ciao Crezziamo una te E una te Accarezzature Le accarezzature signori Allora, craftiamo un arco Mi ero anche dimenticato Completamente dimenticato Di craftare un arco Poi di mettere una redstone E poi tutta la maradama attorno Per fare un dispenser Perché ci servirà? Dobbiamo andare ragazzi Nella zona Nella zona che abbiamo definito La zona industriale Perché anche questa Fa parte di un macchinario Un'imarchi ingegno Un'industria Un impianto E allora Usando la mod Lui 4316 Auto Mixed Tuck Con un colpo di mano Io sarò Zik Eccomi qua Eh quanto c'è voluto ragazzi C'è anche l'effetto audio Ho sentito gli effetti sonori Logicamente ho già spianato Prima di iniziare il video E possiamo subito cominciare Posizioniamo Posizioniamo E vi ricordo di stare attenti Molto attenti Posizioniamo Un cubo di terra Per terra Perché la terra va per terra Madonna mia quanto sono Quanto sono più oggi Un cubo di terra per terra In questo modo Dietro gli mettiamo Un bel dispenser Qua in questa posizione Bam bam E siamo al primo passo Mi sono completamente dimenticato Di fare due sticky piston Porca luggia vacca trota Vabbè Usiamo il teleport Lui 4316 For you all in the best Zv Eccomi qua Allora prendiamo Due Due palle gelatinose qui Ne mettiamo due lì Wallah One nation One station For you For me E ritorniamo lì Velocemente Zv Si è interrotto il teletrasporto Si è interrotto il teletrasporto Si è interrotto il teletrasporto Madonna 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 Cosa ho rischiato Non me ne era accorto Zv Zv Eccomi qua Ok Abbiamo fatto due sticky piston Uno lo mettiamo In questa posizione Togliamo l'altro Mi raccomando Mi raccomando Dovremmo avere una crafting table A queste parti Vabbè ce la craftiamo Giusto per questa edizione straordinaria Di Red Bull Che mette le ali Facciamo un E te stai fermo Guardate Ve lo farò passo passo Bam Guardate Abbiamo fatto il primo passaggio Mi servirà anche Una cosa del genere Voila Ok Ora Andando dietro Guardate Facciamo in questo modo Poi lo togliamo Mettiamo Uno Due Poi logicamente Li togliamo Due Abbiamo detto Tre No No Girate verso così ragazzi Perché però Le ne mettiamo cinque Due Tre Me va Al terzo Una slab Questo ragazzi Questa slab è molto importante Non dimenticatela perché Siccome è una farm Ah non ve l'ho detto È una farm di alberi Siccome noi abbiamo Tutta la zona lì Medievale A me servono alberi Porca lo Giabacca trota Ok E allora mi faccio Una farm di alberi Ma quanto sono P pro Dicevo Quella slab è molto importante Perché ci permette Di non far crescere Gli alberi Oltre Quando gli alberi Corescono oltre Avete presente Quegli alberi Con tutti i rametti Ramugli Ramuschi Che danno fastidio Anche per toglierli Noi vogliamo I tronchi Unigenui Alti Lunghi Detto così è brutto Però è così Realmente Vogliamo quelli Eh Poi ve lo spiego dopo Arrivati a questo punto Ora inizia la parte Un po' più complicata È difficile Mettiamo un blocco qui E un pezzo di redstone sopra Ok Ora vi faccio vedere Anche il perché Saliamo su in questo modo Togliamo il blocco sotto Vi ricordo ragazzi Che i blocchi Minecraft Sono anche conduttori Magari ve lo spiego anche dopo E vi faccio vedere il perché Guardate Bang Ora Che cacchio sto facendo Dobbiamo continuare A salire E a girare Potremo anche cambiare I blocchi Ragazzi E farli altri blocchi Però io Mantengo la cobblestone Per mantenere tutto Unico Uniquistico E allora Un blocco Due blocchi Proseguiamo in questo modo Facciamo così E ne mettiamo uno Qua sopra Ok Ora andando qui Vavangu Poi questi li toglieremo Logicamente Anzi facciamo le scale Perché ci serviranno Anche dopo E dai Voilà Ok Prendiamo i nostri Bay repeater Ne mettiamo Uno qua Girato Verso di noi E uno di là Contro di noi Ok Questo qui Lo mettiamo A due Perfetto Ragazzi ricordiamo che i repeater Basta metterne uno Già aumentiamo Di un tick L'impianto Se io qua avessi messo La redstone Sarebbe continuo Cioè senza tick Ok Fatto ciò Ora noi mettiamo Un blocco qua al centro Guardate Prima vi spiegavo Che i blocchi Sono conduttori Ora vedete Da questo repeater A questo repeater Non passa Alcuna corrente Basta piazzare un blocco Pam Passa la corrente Perché il blocco Che noi andiamo a mettere È conduttore Se invece avessimo messo Un blocco di vetro O non mi ricordo Quale altro blocco La corrente Non sarebbe passata all'interno Andiamo a vedere Se sta già funzionando Ora basta piazzare Un blocco Qua nei dintorni Perché Come detto prima Un blocco di questi Un blocco Un colpo di cobblestone È conduttore Guardate che succede Si attiva l'impianto Avete visto Avanza la redstone Attiva questa Che prima era spenta Se vi ricordate Si spende anche questa Si spende tutto l'impianto Ma si accende Quella Si accende nessuna Perché l'impianto è Tra virgolette Spento Andiamo a togliere il blocco E guardate che succede Si attiva tutta la parte dietro Ora voi non l'avete visto Perché ancora dobbiamo collegare Questi pistoni Una volta collegati Vi faccio vedere Che le succede Andiamo nella parte dietro E continuiamo l'impianto Vero e proprio dietro Ora Togliendo questo Logicamente che non serve Mi raccomando ragazzi Non sbagliate a mettere i cubi Perché poi È un casotto Ok È un casotto Anzi Come per esempio io Ora ho le sbagliere No è giusto È giusto È giusto Ora qui li mettiamo Un repeater In questo modo Mi raccomando In questo modo Sono molto importanti Le posizioni E poi li mettiamo Il nostro Redstone comparator Ok Prima volta che lo utilizziamo In questa serie Lo mettiamo Di qua Ora logicamente È tutto spento E anzi ho anche sbagliato Perché dobbiamo andare avanti Di uno Perché se no Non riesco a mettere La Redstone Ok Lo mettiamo qua E qua ci mettiamo La nostra Cara amica Redstone In questo modo No Ho sbagliato Ho sbagliato Perché sono un pirla Ragazzi Sono un pirla Allora Qui era giusto In poche parole Dobbiamo andare Ad arrivare Al nostro dispenser Allora Scusate ragazzi Ma anch'io ho appena scoperto Questo impianto E voglio mostrarvelo E allora Facciamo in questo modo Ok Ora è giusto Attiviamo il nostro Come cavolo si chiama Il coso lì Una volta attivato Proseguiamo Questo è il nostro dispenser Se vi ricordate Blocco Che fa da conduttore E si prosegue Scusate per il cane Mettiamo un altro Repeater In questo modo E li mettiamo La Redstone Ok Il repeater vi ricordo Che dà un tic in più Per cui già Il nostro coso qua Ha un tic in più Perfetto Ora possiamo salire Prima andiamo a dormire Vum Vum Dormiamo Ok Il letto me lo son portato Ragazzi Ritorniamo su Ecco Meno male abbiamo fatto le scalette Qui È permesso però Scalette for lock Mettiamo un blocco di Redstone Qui Ok Poi mettiamo Il Redstone Stick Il Redstone Stick Vabbè Questo coso qua Qua E si sale Mettiamo un blocco E siamo a pari livello E siamo a pari livello di questo qua Se notate Ok Ok Ora una volta essere arrivati a pari livello Dobbiamo scendere Dunque Scendiamo Ora qui Proprio a pari livello del nostro sticky piston Mettiamo un cubo Mettiamo un cubo Perfetto Perfetto Ok Andiamo a vedere come sta la stone Voilà Mettiamo la nostra cara Amica Redstone Una qui E una su Esattamente lì Possiamo rompere tutto E vedere il funzionamento Ok Come all'inizio Mettiamo un blocco Per fare da conduttore E avete visto Che succede Avete visto Che succede Ragazzi Ho fatto un grosso errore Ora Ritogliamo tutto qui Perché ho fatto Veramente 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 Un grosso errore Ok Voilà Allora Qui Per esempio Per esempio Facciamo tornare Tutto Normale Ok Eh amico Ok Si rimette lì Dovevamo scendere qua ragazzi Ho sbagliato io Ho sbagliato io Perché è Dovenia Ma ancora io Non l'ho imparato Bene 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 A memoria Allora scendiamo qua In poche parole Scendiamo Ok Giusto Ho messo la cobblestone Giusto per farvi vedere Rimettiamo il repeater In questo modo Voilà Abbiamo detto così Poi li mettevamo Questo qui Incollato Appiccicato Attaccato Voilà La redstone Tutta attorno Ok Attiviamo questo Poi qui Invece È giusto Perché Dobbiamo In poche parole Ok Era giusto Perché dobbiamo arrivare La Dobbiamo arrivare La Ok Sono un pirla Perché non va sopra Ma il blocco Andava sotto Ok Qui si mette Il repeater Il repeater Qui si mette Qui si mette La repeater E qui si mette La redstone Ora è perfetto Ok Ora vi faccio vedere Che è Totalmente cambiato Si attiva Guardate Sentite questo rumore È partito Il dispenser Che ha un compito Un compito molto importante Vedete qua dietro che succede Impazzisce tutto È giustissimo Perché c'è ancora il blocco qui Togliendo il blocco Ok È tutto che parte dopo È tutto che parte dopo Questo è italiano Proseguiamo ragazzi Si porta fuori Il primo in alto In questo modo Ok E poi Quello sotto In quest'altro modo Perfetto Una volta fatto ciò Torniamo su E portiamo avanti Questi due Di due blocchi Fammi salire giù Allora Uno e uno due Uno e uno due Ok Fatto ciò Mettiamo altri cinque pistoni Che Ce l'avevamo già caftati Uno Due Due Cinque tutti sopra Una volta messi i pistoni Ragazzi possiamo proseguire Con l'impianto Anche qua dietro Che poi sarebbe uguale a quell'altro Altri due repeater In questo modo E li andiamo a posizionare Sta arrivando anche la notte Per cui Ci conviene dormire Ragazzi L'impianto è terminato Ora mettiamo Un repeater qui Se vi ricordate dietro E uno sotto In queste posizioni Non dimenticatelo Un goccio di redstone Un goccio di redstone E abbiamo finito Ora andiamo giù E vi faccio vedere L'impianto Terminato Guardate In poche parole Si attiva tutto Si attiva l'ambaradam Quando lo si toglie Voilà Ok Qua potremmo anche chiuderlo Volendo In questo modo In questo modo Perfetto Mi raccomando Non mettete blocchi qui Perché sono bloccate Tutto l'impianto Ok Ok Qua magari si può fare così Con delle scalette Ora ci servono alcuni ingredienti Andiamo a casa Vium Vium Ok Allora ci servono Degli alberelli Degli alberelli Tipo questi qua Tipo questi qua Però vuole provare a vedere Con gli alberi della giungla Non della giungla Quella scuri Li abbiamo? Gli alberelli quelli scuri Gli alberelli quelli scuri Acacia sapling No Io non raccolto alberelli scuri No ma ce li avrò da qualche parte Vabbè Proviamo con questi Ma ci serve del bombillo Io avrei delle ossa Da qualche parte Eccole qua Tanto bombillo Voilà Anche se so che è poco Ok Ok ragazzi Li ho trovati Li avevo nella casetta Quella iniziale Perfetto Torniamo lì Allora Cominciamo con Gli alberi normali Guardiamo Allora Andiamo nel dispenser E ci mettiamo tutto il bombillo Che abbiamo Infatti poi ci servirà Un impianto di bombillo Per cui di ossa Per cui Di scheletri Vediamo dove abbiamo Se vi ricordate Dove io ho uno spawner Di scheletri Ditemelo perché Non mi ricordo Dovrei andami a riguardare i video Allora Guardate Posizionando Eh? Magia È magia È magia Ora vediamo se funziona Anche con questa legna Non ne sono sicuro E infatti Non funziona Aia Non funziona Perché ogni tanto Ragazzi Vedete Si bloccano di piante Cioè di foglie Infatti L'impianto Non è Al 100% Automatizzato Nel senso Che è molto veloce L'automizzazione Della far crescere le piante Però poi Dobbiamo tagliarcele a mano Magari poi Vediamo come fare Ok Vediamo adesso Abbiamo tolto le piante sopra No Non va Non va Perché questo dovrebbe essere Alto 4 Se non erro Cioè dovrebbe essere così Una cosa del genere No Si boh Non lo so Lo scoprirò Ma intanto Con la legna normale Ragazzi Quando abbiamo bisogno di legna Vediamo qua Basta piantare Noi bianello E babam 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 Ragazzi Il bomb meal Sta terminando Ora lo terminiamo tutto Magari Tanto poi faremo L'impianto Della Degli scheleti Voilà Voilà Gli alberelli cadono Tranquillamente Voilà E abbiamo Un sacco di legna Abbiamo Un sacco di legna Qua perché ogni tanto Come ho detto prima Si incastriscono Le fogliole E dai E voilà Logicamente è finito Il bomb meal È finito Il bomb meal Ragazzi mi raccomando Quando tagliate la legna Cominciate sempre dalla fine Ok Perché se andate a tagliare questa Vedete In poche parole L'impianto Finché lo mettete Ok Avete visto Perfetto Ragazzi L'impianto È riuscito Perfettamente Un gg Un hashtag Grande Non lo so Fate quello che volete Ma sicuramente Un pollice in su Una condivisione Questo è tutto il dietro Che poi andrà coperto E questa è la farm Di alberi Un bacione Un abbraccio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.